Musica Allora ragazzi, oggi dove andiamo? Allora ragazzi Allora ragazzi Allora ragazzi Grazie Allora ragazzi Buongiorno a tutti Andiamo a Magma 2.1 Allora ragazzi 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 Oh Kit Che ricordi Supercar Allora ragazzi 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 Allora Dove è il freno? Dove è il freno? Vai, vai! ...del Tempio dei Moshai. Una specie sulla Grande Roccia dovrebbe essere invece un esemplare al lato. Mi raccomando, rallentate però, mantenete la voce. ...e cercate di nostri amici. Che nuova! ...qu north. ... Noi, noi, noi. Oh! E'다�le! E'다�le la scuola! Ok! E'advento! E' a la scuola! E' la scuola! E' una scuola! E' un'ostia! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Musica Musica